Uno degli indiscutibili vantaggi di avere come sistema operativo mac os o linux è il fatto di poter avere un ambiente unix o quantomeno una shell bash preinstallata di fabbrica senza dover poi aggiungere nulla di terze parti Su entrambi questi sistemi operativi infatti è presente il terminale Altro non è che un'applicazione che ci permette di eseguire delle operazioni sul nostro computer in versione riga di comando eseguendo la shell bash in un ambiente unix Windows dall'altro lato si è sempre sviluppato su ambiente ms dos e questo è il motivo per cui non ha mai presentato di default unix o bash al suo interno E quindi tutti gli utenti windows che nel corso degli anni hanno cercato di sopperire a questa mancanza hanno dovuto cavarsela con metodi propri diciamo di terze parti Come per esempio un'installazione di ubuntu o di un'altra distro su una macchina virtuale Nulla da dire su tutto ciò però è una procedura indubbiamente lunga noiosa e spesso richiede molto più hardware di quello che poi l'utente effettivamente serve per eseguire le sue operazioni righe di comando Oppure si sono dovuti affidare ad alcuni emulatori chiamiamoli così come per esempio Cygwin Una distribuzione di software che dal 1995 permette di utilizzare per esempio la toolchain di GNU e altri applicativi tipici comunque dei sistemi POSIX direttamente sopra al nostro adorato Windows Diciamo che sarebbe come sfondare una porta di legno utilizzando un cannone come diceva la mia prof di matematica del biennio La miglior prof che abbia mai avuto Da un po' di tempo in realtà a queste soluzioni se ne è aggiunta un'altra ufficiale portata avanti dalla stessa Microsoft Che molto probabilmente è già presente sui vostri computer da cui starete guardando questo video semplicemente non è attiva e si chiama WSL WSL sta per Windows Subsystem for Linux e come si intuisce dal nome è una funzione esclusiva di Windows 10 che permette di eseguire dei tool righe di comando nativi di Linux sopra Windows Affiancandoli quindi al sistema operativo già in esecuzione WSL è l'esecuzione parallela di un altro sistema operativo una distro di Linux tipicamente Ubuntu su Windows 10 E ciò vi permette non solo di poter avere accesso ai comandi tipici alla shell bash ma potrete fare molto di più anche in ambiente server Come per esempio avere accesso all'SSH potrete connettervi a server remoti e lasciare che da remoto si connettano al vostro computer Potrete disporre di un package manager in questo caso vedete apt in funzione su Windows di fatto anche se in realtà in funzione su Ubuntu E tramite esso potrete scaricare, installare ed eseguire su Windows programmi in linea di comando sviluppati per Linux Vi mostro ora per esempio HTOP che è un process manager programmato per Linux di base L'unica vera differenza tra WSL e l'installazione effettiva di una macchina virtuale a sé stante è che WSL non include il kernel di Linux Perché infatti si sovrappone e si esegue sopra quello di Windows e l'assenza dell'emulazione del kernel impone alcune limitazioni Come per esempio l'impossibilità di usare dei programmi con interfaccia grafica sviluppati per Linux su Windows Per questo motivo se siete utenti che vogliono accedere a dei livelli molto bassi su Linux vi consiglio comunque di lavorare su una macchina virtuale a sé stante Però se invece volete semplicemente un buon ambiente Unix, POSIX, la Shell Bash e moltissimi dei tool riga di comando che si trovano su Linux Invece potete dare una chance a questo WSL che è molto più leggero, decisamente migliore da un punto di vista di praticità E soprattutto vi sto per spiegare come installarlo Piccola parentesi, verso ottobre 2019 quindi tra circa 4 mesi dovrebbe uscire WSL 2 Che tra le tante novità introdurrà l'emulazione di un kernel Linux Quindi permetterà anche l'esecuzione di programmi con interfaccia grafica Se sarete interessati vi prometto che quando uscirà WSL 2 farò un altro video di aggiornamento Prima di procedere con l'installazione di WSL è importante assicurarsi di avere tutti i requisiti minimi Dovete essere su una versione di Windows 10 a 64 bit, le 32 bit non sono supportate E la vostra build deve essere almeno la 1607 Per controllare tutte queste informazioni dal menu start basterà aprire le impostazioni Poi andare su sistema e qui a lato premere in informazioni su E sotto specifiche dispositivi e specifiche Windows noterete 64 bit operating system build 1809 Bene, possiamo procedere Come vi ho detto la base, lo scheletro di WSL è già presente all'interno di Windows 10 Ma Microsoft l'ha disattivata Per ridarle vita dovremo aprire ancora le impostazioni di Windows Recarsi poi in aggiornamento e sicurezza Premere a lato su per sviluppatori E attivare la modalità sviluppatore Premiamo sì come conferma E sappiate che se è la prima volta che la attivate potrebbe richiedere qualche minuto Una volta finito apparirà qui sotto la scritta pacchetto modalità sviluppatore installato Fatto ciò sarà sufficiente aprire il pannello di controllo sempre da start Cliccare su programmi Poi su attiva disattiva funzionalità di Windows E da questa lunga lista di funzioni attivabili o disattivabili Mettere la spunta su sottosistema Windows per Linux Arrivati a questo punto comunque bisognerà aspettare qualche secondo E poi come ci viene chiesto Riavviare tutto il computer per applicare le modifiche Perfetto siamo al 50% dell'opera Infatti una volta finito il riavvio Una volta acceso Windows Noteremo che cercandolo nel menu start Bash sarà già apparso Però mancherà il sistema operativo Ubuntu Che invece si recupera dal Windows Store Quindi se non l'avete ancora fatto Eseguite l'accesso al suo interno con un account Microsoft Basterà premere su questo bottone dell'utente in alto nella home page E successivamente dopo aver inserito mail e password Microsoft Cercate nella barra di ricerca qui in alto Ubuntu Eccolo qua Senza trucchi né inganni Premiamo quindi su ottieni e successivamente su installa L'app pesa più di 220 MB Quindi non è eccessivamente massiccia Però dovrete comunque aspettare qualche minuto Una volta finito dovrete aprirlo per la prima volta Premendo su avvia Comparirà quindi questo prompt Con scritto installing This will take a few minutes E successivamente vi verrà chiesto di inserire lo username del nuovo utente Unix E tenete la mente Gli utenti di Ubuntu saranno completamente separati Autonomi da quelli che avrete su Windows Ricordatevi ad ogni modo di non inserire né lettere maiuscole Né numeri Né simboli strani Né spazi Poi premete invio E ovviamente scegliete la password di quell'utente Che verrà richiesta anche quando useremo il comando sudo Per elevarci a livello di amministratore Dunque scegliete una password e poi reinseritela appena vi appare retype password E boom Congratulazioni Ubuntu WSL è pronto per essere usato Ora vi do giusto qualche rapida nozione per farvi ambientare più in fretta Adesso di default siamo nella directory dell'utente Linux che abbiamo appena creato Che come vedete digitando ls risulta essere assolutamente vuota Spostandoci nella root tramite cd spazio slash Notate che siamo nella root di Ubuntu Non in quella di Windows Perché appunto come vi dicevo i due sistemi operativi sono separati Per recarvi invece nella root di Windows E quindi interagire sui file di Windows dal terminale di Ubuntu con Bash Dovrete recarvi nella cartella mnt Con cd slash mnt Che come potete vedere dando ls contiene tutti i dischi montati E ovviamente quello di Windows sarà il c Quindi dovrete spostarvi su di esso con cd spazio c Ecco che ora infatti se diamo ls ci mostra la root di Windows Gli utenti di Linux invece ovviamente stanno in slash home slash In questo caso ce n'è solo uno che è quello che ho creato prima insieme a voi Vi do un consiglio da amico Da Windows quindi da Explorer Risorse Non toccate e non modificate i file presenti nella directory del sistema operativo Ubuntu Perché il rischio di corrompere qualcosa c'è Ed è anche abbastanza concreto Ora prima di considerarci a posto dovremo giusto finire gli ultimi ritocchi Come per esempio prevenire un errore che potrebbe apparire Data l'assenza di Udev all'interno di questo Ubuntu Per farlo dal solito terminale bash dovremo digitare quattro comandi Il primo è sudo spazio nano spazio slash usr slash sbin slash policy trattino rc.d Attenzione alla sintassi scrivetelo esattamente come l'ho scritto io Comunque troverete tutti i comandi in descrizione E ad ogni comando premete invio Essendo la prima volta che invochiamo il comando sudo Che conferisce ve lo ricordo i permessi di amministratore alla shell in esecuzione Dovremo inserire la password impostata poco fa E una volta premuto ancora invio in questo editor testuale che ci apparirà schermo Digitiamo queste due righe di codice Cancelletto punto esclamativo slash bin slash sh A capo a capo exit spazio 101 Ok abbiamo creato questo nuovo file Ora diamo ctrl o e invio per scriverlo sul disco E successivamente ctrl x per uscire dall'editor nano Ora non ci resta altro che attribuire i permessi di esecuzione al file appena creato Digitando sudo spazio chmod spazio Più x spazio Slash usr slash sbin Slash policy trattino rc.d Invio Ed infine dovremo far sapere al package manager della sua esistenza Con questi altri due comandi Sudo spazio dpkg meno divert spazio meno meno local spazio meno meno rename spazio meno meno add spazio slash sbin slash initctl Premiamo invio ed infine l'ultimo comando Sudo spazio ln spazio meno s spazio slash bin slash true spazio slash sbin slash initctl E diamo ancora invio Perfetto ora l'ultima cosa che ci resta da fare è aggiornare ubuntu Ed è un'operazione che vi consiglio di fare con relativa frequenza Si fa con questi due comandi dati in sequenza Il primo è sudo spazio apt spazio update Dando invio invocheremo il nostro package manager che appunto sarà apt Che aggiornerà la lista contenente le ultime versioni dei pacchetti disponibili E il secondo comando da dare subito dopo invece è sudo spazio apt spazio upgrade Che dopo pochi secondi dopo l'invio vi chiederà se volete davvero procedere Quindi voi premete y e confermate ancora con invio E in questo modo scaricherà ed installerà tutti i nuovi aggiornamenti dei pacchetti Ecco perché affinché quest'ultimo finisca ci vorrà un po' più di tempo Durante questa fase senza toccare nulla è probabile che vi appaia questo pop up Che vi chiede l'autorizzazione per riavviare determinati processi autonomamente Noi diamogliela spostandoci con le freccine prima su yes e poi premendo invio E attendiamo poi la fine di tutto il procedimento automatica Perfetto finito e ora il vostro ubuntu sarà pronto per essere utilizzato su windows Vediamo qualche trucchetto Per installare un programma linux tramite il package manager Per esempio htop quello che vi ho mostrato all'inizio del video Dovrete usare ancora apt e la sintassi del comando è sudo spazio apt spazio install spazio nome del pacchetto In questo caso htop invio ed ecco che è partita l'installazione Ecco fatto Ora lo potremo invocare digitando htop ed eccolo da solo in esecuzione Come vi ho detto prima però potrete disporre di tanti altri tool come nano, sed, avk, ping Ma anche di ambienti di sviluppo come ruby e python Tutti a portata di click direttamente a fianco al nostro sistema windows Ora per esempio sto installando python seguendo il medesimo metodo che vi ho appena mostrato con apt E notate come una volta finita l'installazione io possa invocare l'ambiente di sviluppo python Senza alcun problema dalla shell digitando semplicemente il comando per l'appunto python Ma come io dico sempre adesso vi ho dato il mezzo per creare opere d'arte Ma le opere d'arte le dovrete creare voi sviluppatori Vi ricordo solo che questo ambiente, questo ubuntu Lo potrete sempre comunque richiamare dal vostro windows Cercando su start appunto l'omonima applicazione ubuntu Però per esempio la shell bash potrete richiamarla anche dal prompt dei comandi di windows Dal cmd digitando appunto bash Una volta dentro alla shell invece per uscire basterà digitare il comando exit e premere invio Che dire ragazzi Questa era una guida su come installare ubuntu vsl su windows 10 Lo so che è una cosa che comunque c'è da un anno circa E che quindi magari alcuni di voi la conosceranno già Ma non ho visto molte guide in italiano complete che spiegano cosa sia, perché conviene installarlo e come installarlo In realtà questo video è anche un po' una scusa per tornare a fare video un po' più settoriali Un po' più da smanettoni Perché a me diverte tantissimo farli Mi piace un sacco farvi scoprire questi trucchetti Quindi se questi video dovessero piacervi e dovessero andare bene Ne farò sicuramente altri A partire per esempio dal video su vsl2 appena uscirà Detto questo ragazzi se questo video vi è piaciuto quindi fatemelo sapere con un bel pollice in su Oppure lasciando un commentino qui sotto Seguitemi su tutti i miei social network In particolare instagram e come sempre il link ve lo lascio qua sotto giù in descrizione Cliccando qui e la ti potete raggiungere altri miei due video E invece cliccando quel centro vi iscrivete al mio canale Se lo fate siete dei grandi Io vi mando un grande saluto E noi ci rivediamo in un prossimo video Ciao